Il più grande sistema di pressione a vuoto con stile e disegno tedesco. Basta una pressione ed avrà una forte presa. La migliore e semplice pressione a vuoto. È il più forte di tutte le altre ventose a pressione e tiene più a lungo delle altre. Lo monta e smonta perfino un bambino. È composto da un materiale flessibile che si accosta a qualsiasi superficie e inoltre è indistruttibile. Si adatta perfettamente su ogni tipo di superficie, ovunque voi lo desideriate, su superfici lisce, ruvide o bombate. Solo con questo prodotto è possibile. Le ventose tradizionali non sono adatte. Non serve né un operaio specializzato né il trapano per montarlo. Si adatta perfettamente su ogni tipo di superficie, senza tenere conto della superficie, temperatura ambientale, orario e lo togli quando vuoi. Lo puoi usare per mille cose da appendere o tenere a portata di mano. Prendine uno o più di uno e paghi alla cassa. Intergrossing Store Video. Novità di qualità.